di miss lo vedi si lo vedo si presenta una bimba che avrà intorno ai dieci anni nel mezzo un prato con una gonna e le trecce gira tutto intorno così e lancia petali in cerchio ovunque ok è una vita precedente di niccolò mi sembra più una vita parallela cioè è in questo tempo una linea temporale diversa differente ma ora ok un alimento temporale parallela diversa quindi ma in questo tempo se vediamo che poco cambia perché anche le vite parallele precedenti sono sempre nello stesso istante e di fatto un'altra linea temporale con quello di dà l'autorizzazione ok proviamo una cosa nuova molto più rapida tecnica pochi punti quindi andiamo dritti alla questione cioè non centi di veramente nuovo però vibrazione subito 10 miliardi consapevolezza 183 psp ps 56 e p e 44 vite precedenti 820 cervello 9,3 ok valori molto alti una singolare bassa quantità di vite precedenti un'ottima vibrazione di inizio consapevolezza quasi equilibrio tra psp e cervello bene in quali vite se ci sono state ha incontrato la fidanzata allora ne vedo una in particolare dove erano anche lì lì erano marito e moglie come sempre uomo lei donna e dove sono tutti e due su un aereo il loro aereo con gli aerei piccoli che c'erano un po di anni fa inizio del novecento di posto no e lei davanti che pilota e lui dietro e li vedo volare sopra sopra in francia dove ci sono i castelli della loira quei posti di perché si sono rincontrati in questa allora mi ha fatto vedere quell'episodio lì perché poi c'è stato un problema all'aereo e loro sono morti schiantati a terra hanno deciso di rincontrarsi qua perché devono portare a termine il loro amore la loro unione sono fiamme se sono fiamme sono fiamme si sono incontrati tra questa è la terza volta come maschio e femmina sempre lui maschio e le femmina e la terza vita ed è vedo che nelle altre due è sempre successo qualcosa che li separava che faceva sì che non potessero arrivare alla fine quindi lo schianto d'aereo è la prima la prima era o l'altra se la prima è prima di quella non sono riusciti allora si sono incontrati ma non sono riusciti a formare a rimanere assieme era praticamente e non potevano essere insieme perché si sono incontrati facevano parte di due famiglie che non potevano praticamente le famiglie non volevano che loro stessero assieme ok e quindi non sono riusciti a mettersi assieme sono incontrati in un'occasione si sono visti per due o tre volte e poi si sono separati stessa domanda ci sono dei componenti della famiglia con cui lui ha già vissuto altre esistenze allora vedo la sua mamma con la sua mamma lui ha vissuto erano fratello e sorella però invertiti lui e la sorella e la mamma al fratello rinascimento più o meno perché se sono rincontrati perché come se allora ps della mamma ha deciso di rincontrarlo qua e la ps di lui ha accettato e nella ps della mamma ha voluto rincontrarlo perché non è stata soddisfatta della diciamo dell'esperienza avuta con lui in quella vita come relazione quindi ha proposto tra virgolette alla ps di nicolò di rincontrarsi qua ma in altri ruoli adesso non spedi e l'esperienza solo diversa chiama i miei miei della sua famiglia e la fidanzata e l'invitiamo nel cinema e vedo anche un ragazzo un altro ragazzo le regia fratello però non so dice fratello fratello di delle di lei no di nicolò fratello di nicolò sit fa dice di sì quindi c'è un fratello ok ok chi è più interessato allora c'è il fratello la fidanzata e i genitori se allora la mamma la fidanzata si sono messi in prima fila il papà il fratello appena dietro ok nicolò non hai messo il disincarnato è un'occasione importante scrivimela qui in skype nella chat questa quattro occasione che tu puoi offrire un nonno non una persona che insomma non c'è più e direi che dovreste profittarne va bene vediamo le interferenze eteriche di nicolò così d'emblè allora io non vedo non vedo interferenze stabili non so come dire vanno e vengono esatto sono cose molto minime perché perché secondo me lui è una ps delle ps verificalo bene sai cosa sono nicolò hai vista quella no per la sarebbe una perla se hai vista per questa è quella lì verificalo bene sì perché quello che vedo allora forse non è una ps cioè forse non è proprio ps delle ps perché due interferenze mentali lea però a non le interferenze eteriche non riescono a agganciarsi a lui ok quindi vedo come come si fossero due entità mentali qua all'inizio no qui e poi da lì in poi fino dall'altra parte c'è tutto uno scudo a uovo energetico che fa sì che loro non si possano agganciare quindi magari la interferiscono ma lui si accorge e poi vengono mandate fuori ci sono gli edl ce n'è uno rompe il guscio o resta fuori allora qua vedo le due entità mentali vedo il guscio che parte più o meno a metà no quindi queste sono identità mentali il guscio parte fa così e le dl parte dall'entità mentali prende tipo un messaggio poi lui ma nel cui si fa la cosa poi viene risputato fuori e ritorna lì questo sempre qualunque giorno della vita di niccolò se anche quando è triste colto da bassa d'attacchi di bassa autostima se praticamente l'azione delle entità mentali che sono bassissime sono di livello 1 e 2 agisce sulle sue a livello mentale no quindi un po abbassano la vibrazione e ha un po queste sensazioni queste emozioni un po negative ok quando un'interferenza eterica riesce ad interferire è come se per un attimo abbassassero un po le vibrazioni poi lui le rimanda le rimanda fuori alzando riesce a alzare la vibrazione mandarle fuori quindi diciamo un po il ricordo delle emozioni negative rimane sempre ok quindi lui si ricorda che lui si sente in colpa a volte però in quel momento lì non è che si sente in colpa non so se ho reso l'idea quindi non abbassa le frequenze no solo in alcuni istanti e non entrano i edl in quegli istanti famosi ogni tanto ogni tanto entra questo edl ma non è poi viene buttato fuori quindi la discriminante e la vibrazione come sempre si va bene a quanto in tutta la sua vita e a chietà ha vibrato di più allora allora cinque anni mi viene c'è stato un momento qualche ora addirittura per qualche ora che ha vibrato a 150 miliardi costante poi ogni tanto durante tutta la vita lui è in grado di avere dei picchi quando vedo che prova uno stato di estasi tra virgolette stessi nel senso in cui lui si sente parte del tutto lo vedo come se facesse parte del tutto e sente una cosa unica come il tutto e in quegli istanti di alle vibrazioni che vanno anche di più arrivano anche ma mille miliardi ogni tanto malpicchi proprio da dicendo sì con la testa e scrive che l'ha avuto alcuni mesi fa e raffuso con gli alberi se si vedo proprio questa cosa come esatto e con la fiamma non raggiunge dei momenti di alta frequenza e però con la allora se raggiungesse insieme alla fiamma quei momenti di sarebbe non sarebbe terrena quella cosa c'è non può arrivare non possono arrivare a mille miliardi assieme perché non sarebbe terreno non sarebbe sarebbe c'è svanirebbero lo vedo proprio c'è troppo perché non svaniscono è un modo per sparire per tornare la sorgente si sarebbe un modo per tornare la sorgente ma finora non ho visto ancora nessuno che l'abbia fatto lo devi fare intenzionalmente non so come dire ok siamo pronti ok siamo pronti insieme alziamo le vibrazioni mille miliardi di più finché torniamo alla sorgente ma non l'ha fatto ancora nessuno vibrano molto alto insieme vibrano sono arrivati anche a picchi molto alti 200 miliardi due 300 miliardi va bene ci sono impianti bambini no no non ci sono neanche impianti mentali lentità mentali quando sono entrate sempre quando aveva cinque anni in occasione di quale evento vedo che lui ha fatto un sogno non è di quelli che ha raccontato prima però vedo che ha fatto un sogno po strano dove vedeva delle cose che potevano succedere futuro e in quel momento li hanno messo degli impianti cioè li hanno messo scusa sono entrate le dita mentali tutte e due obiettivo di alzare la loro potenza cioè spesso adesso è vedo per la prima volta questa informazione spesso le entità mentali entrano a livelli bassi no e loro diciamo loro abbassare le vibrazioni il loro compito tra virgolette è proprio quello di aumentare la loro potenza e potenzialmente arrivare a livello 10 in maniera tale da tenere il soggetto completamente immobile con lui non sono mai riusciti ad alzarsi da lì però sono arrivati alla 2 che era già 11 una di livello 1 e una di livello 2 quando sono arrivate e come se due di livello 1 non ci possono essere perché in questo caso no in generale io non ho mai visto due entità mentali dello stesso livello va bene nicolò con tutto questo quadro si è cinibaccato e vorrebbe capire come tornare indietro annullare il tutto allora per quanto riguarda a livello fisico quello che vedo nel corpo fisico tu non puoi togliere quello che ci va ha messo perché quel quel quella cosa le sostanze quella cosa quella cosa le sostanze ancora ancora ma quella cosa che gira all'interno del corpo non può essere tolta ma perché gira perché gira ed è consistente non si dissolve non caffè ne intendi di nanobot l'unica cosa che si può fare che ho visto che sono riusciti a fare potenzialmente solo tre persone contrastare energeticamente l'effetto che vogliono fare sulla persona dall'esterno ok quindi tutte le volte che mandano un impulso dall'esterno per attivare i nanobot che girano insieme insieme a grafene quello che una persona molto consapevole che ha imparato ad alzate nelle vibrazioni molto alte è concentrarsi centrarsi e alzare le vibrazioni a tal punto che interferisce con l'informazione che arriva da fuori però lo devi fare tutte le volte che arriva l'informazione da fuori lui ci ha raccontato il motivo per cui l'ha fatto perché l'ha fatto davvero perché voleva mettersi alla prova per vedere se veramente riusciva a contrastare questa cosa e questo non lo capirò mai veramente non riesco neanche a capire da dove prenderla da che lato prenderla è la seconda persona che mi dice questa cosa e per me non ha neanche che non ha senso non so come definirla come definirla è come se mi dicessi ma sai volevo vedere come era dentro il vulcano che sta eruttando è lava e di te lava carne non è che vince la carne poi io sono dio io faccio quello che voglio va bene ma francamente non so cosa dirvi vabbè le tre persone chiama le quindi le tre persone hanno eliminato i nanobot no ma li contrastano tutte le volte che nanobot fanno il bello e cattivo di tempo si sono tre persone che non fanno niente c'è sono paragonabili a una remita una scelta no che stanno tutto il tempo a fare niente isolati e si sono cinivaccati questi isolati i remiti perché se sfida se farò solo quello è come se facessero solo quello ok ci spieghino come fanno tengono le vibrazioni alte tutto il tempo quindi come se stessero centrati tutte le ore che stanno svegli stanno centrati e tengono le vibrazioni altissime io vedo cioè quello che vedo è come se stessero immobili non vedo la persona immobile in piedi con gli occhi chiusi che tira sulle vibrazioni e continuo grazie faccio in artina su maggiore tirano su maggiore e nanobot e cosa fanno cosa stanno facendo in media allora quello che fanno adesso quelli che vedo adesso avevo già visto un'altra volta come se passassero ok mezzo al sangue e mentre passano come se si tirassero dietro è come se i globuli rossi si appiccicano dietro a questo nanobot che uno dietro l'altro quindi riman mano che va fa un serpente di globuli rossi uno attaccato all'altro e mentre passa gli altri elementi che sono nei vasi sanguigni vengono un po distrutti nel senso che va deve passare quello che c'è c'è possibilità che vengono devellati la ps dove perché non fa tutto perché non li butta fuori con le urine no non può non può passare da c'è dovrebbe squartare dei vasi e farlo passare perché non dà al corpo l'ordine di debellarla rispellerla perché deve darla questa sostanza dovrebbe trovare ecco questo potrebbe essere un modo che vedo potenziale perché non l'ho mai visto fare da nessuno è stato in grado di farlo finora un modo potrebbe essere che questi nano questo nanobot così nanobot vengono inglobati all'interno del sangue per anglobati ok espulsi dai vasi però attraverso la parete quindi si deve riuscire del corpo deve riuscire a togliere a far di passare attraverso la parete dei vasi perché non ci passano dai normali capillari globali far uscire dalla parete dei vasi farlo arrivare appunto nel nell'apparato e scrittore che può essere le urini o le feci ok oppure anche dal catar non so in uno di queste maniera qua e spellolo quindi creare tipo una ciste intorno no ok che lo ingloba farlo passare nelle pareti farlo arrivare o nell'intestino oppure nelle urinarie e così lo può espellere ovviamente questa cosa darebbe dei sintomi che possono essere simili infettivi febbre alta così ma se la persona è conscia che il corpo sta facendo questa cosa si c'entra e lo fa potenziale ma non l'ho mai visto fare c'è nessuno c'è ancora mai fatto se nanobot sono nei capillari e non riescono a uscire dai capillari come ci sono arrivati la siringa buca il vaso quindi e nel nella spalla nel deltoide questa situazione se da lì c'è ma e poi sono andati in giro se ne vanno in giro ma vanno in giro ma la cosa è allora entra nel muscolo che della siringa la siringa più grossa però quando entra è come se si compone come se dentro al cinevac ci fosse ci fossero le istruzioni per l'organismo umano di mettere insieme i pezzi per fare il nanobot c'è fatto da diverse parti e cosa compone una volta che è nel sangue si crea e da lì non può più uscire cosa si è cosa si crea si mettono assieme queste particelle che allora io vedo questo metallo che non è potrebbe essere un insieme di alluminio mercurio potrebbe essere il bario però questi tre allora formano una struttura assieme si uniscono e formano questa cosa che inizia a girare e grazie al graffene a questi poi si si attaccano qua mentre girano se arrivano dall'esterno graffene fa sì che l'impulso venga trasmesso ma qual è l'obiettivo al produttore chi è che l'ha creato questi cinevac alla fine umani in alto in cima alla scala chi sono allora chi ha proprio chi è stato dietro al progetto direttamente io vedo big gates e vedo c'è il dottor fauci e poi vedo altre due persone che sono però non li conosco donna uomo c'è una donna un uomo però allora sì però non li conosco ma fauci e vivo fauci e ancora vivo ma lo vedo arrestato ok codino pompon di coniglietto e di fatto è un maxi ad eterno ma quindi glielo attacchiamo lì al codino io lo chiamo al sacro e nessuno lo toglie più gates e vivo no che cos'è quello che si vede in giro a volte è un clone a volte un attore e l'hanno ucciso è morto scivolando per casa si si volando l'hanno ucciso hanno ucciso giustiziato e giustiziato adesso se queste sono le persone morte per colpa di gates in un modo o nell'altro cioè responsabile di quanti morti ognuno di noi non è responsabile della morte di nessuno no quindi dire che una persona responsabile di alcuni morti è impressionante quanti allora qua c'è un misto di robe poi perché un po sono per gli esperimenti fatti a livello farmaceutico tra virgolette direi con la scusa del farmaceutico anche negli anni passati e poi più tutto africa vicini va contatto di tanto apriamo un gigantesco portale aureo invitiamo il nonno materno che nicolo vuole chiamare e chiamiamo tutti questi qua responsabili responsabili periti per colpa di gates e poi un altro gruppo per colpa di fauci dammi due numeri quelli che ti arrivano a 5 milioni di persone gates e fauci 2 milioni di persone che sono anche intersecati con grezza si si totale 10 11 milioni di persone totale tutti due 15 copi due facette però si è nato detto gli intersecati poi ho visto in effetti non li avevo contatti avevo contato quello di uno quello dell'altro e ce ne sono quattro che sono quelli che di cui sono responsabili tutti e due ecco lei esclusi di 7 per 4 11 va bene 11 milioni più il nonno il nonno capofila il nonno come lo vedi materno no non lo vedo un po cicciotto qua è arrivato come per dire sono in salute è come se rappresentasse diciamo fosse lì a rappresentare quei momenti di solitudine che niccolò sente quando mangia i dolci ma è lui e la presenza del nonno che induce niccolò a mangiare dolci anche non lo vedo tutte le volte sto cercando di capire il meccanismo allora la maggior parte della prima come se la prima volta che gli è successo di volere di sentire questo vuoto di volere mangiare i dolci c'era il nonno ok e poi è come se ci fosse il ricordo di quell'energia lì no quindi la presenza del nonno e poi c'è il ricordo di quelle energie lì quindi a volte c'è non la presenza del nonno a volte no ma è come se quell'energia arrivasse sempre è come se quando c'era il nonno per niccolò era un una spalla di cui fidarsi con cui confidarsi con cui spiegare delle cose che gli dava più serenità no magari aveva una preoccupazione parlava con il nonno si rilassava una cosa così e quindi quando poi non non c'è più stato a lui mancava questa cosa non arrivava nel momento di vuoto e da lì inizia tutto questo meccanismo ok vuole dire qualcosa al nipote il nonno o alla figlia della madre di niccolò o tutte e a niccolò vuole dire non c'è bisogno che ci sia io per far sì che tu ti tranquillizzi tu la sai sempre la risposta la risposta che ti fa stare bene che ti fa scegliere la strada giusta per te detto io adesso vado ok era attaccato alla terra si era attaccato alla casa dove abitava niccolò e si avvicinava spesso a niccolò in questa maniera quindi la causa esoterica dell'attaccamento ai dolci e il possono esserci poi dei residui mentali dopo il lavoro di oggi ci può essere una memoria però se nicola consapevole si accorge subito e questa cosa scema da sola se si rende subito conto che era la memoria e la toglie allora così a sbagliare altrimenti può ricominciare il meccanismo ok salutiamo il nonno il portale auro è già aperto e non apri pista ogni suo esempio va e mostra quello che stanno per fare 11 milioni di disincarnati fatto è andato chiuso 11 milioni di disincarnati vorrei che canalizzarsi un messaggio unico di tutti i 11 milioni se vogliono dire continuano arrivare dei flash bianchi che poi non si vedono nella video però spesso arrivano nel via nel video diretta diciamo c'è un messaggio che vogliono lasciare unico o due tipologie di messaggio tra tipologie non di più quali sono i pensieri comuni di questa massa critica cosa ci facciamo qua che carino bill grazie bill bill for president sensazione che ci hanno fatto provare talmente fuori dall'umano dicono che quello che voi provate nel vedere le nostre immagini dei corpi le torture niente in confronto quali tortura prima di le torture che ci hanno fatto prima di essere tagliati a pezzi e poi mangiati sì ci tagliavano i pezzi di pelle ci costavano e poi tiravano via tagliavano un pezzo alla volta un altro poi un altro intanto succhiavano sangue quindi questi sono le vittime dei vari sacrifici non sono le vittime solo le vittime dei cini vacca mister cancelli tutte tutte anche quella decine vacchi vecchi nuovi e tutte le vittime anche dei sacrifici ok quanti di questi 11 milioni vengono dal continente africano 3 milioni ok più di un quarto va bene predilevano a caso di questi che ha fatto la vittima sacrificale e chiedi perché ha fatto questa esperienza quella ps la ps dice come se quella che ho beccato dice che nel momento in cui è arrivata lì a essere sacrificata ha provato a mandare un messaggio al corpo in cui viveva per cambiare strada ma la persona in in cui era la ps non l'ha recepito e si è trovata essere sacrificata dimmi dimmi se ti cerco di descrivere la parte c'è la prossima volta che la farò cercherò di essere una persona che è più consapevole in maniera tale che quando gli mando il messaggio cambia la via ma durante l'azione sacrificale la ps dove entra esce sì perché mentre fanno la tortura esce c'è come se la schizzassero fuori un po e poi rientra appena smettono no quindi adesso la taglia un altro mentre tagliano l'altro la ps è come se fosse schizzata fuori e poi appena smettono rientra perché la ps prima che inizino queste cose non apre nella realtà matrix una portale e non fa uscire la persona che se ne scappi da quel bunker nel portale in un portale se ne va in un prato verde nell'esperienza di un'altra di un altro c'è io questa ps dice io quella esperienza di non l'ho ancora fatta magari la farò un'esperienza di essere tagliati vivi e poi sacrificati è una basta una basta poi basta la fa uno da una l'ha già fatto né passato gli altri non devono rifarla lei dice ma è come se che consapevolezza questa ps che parla guardate ma la corta l'un per cento non è tanto alta e 30 ecco la risposta è questa chiudiamo il capitolo causa esoterica della bassa autostima di niccolò e fa parte delle varie del passare la vibrazione che fanno le due entità mentali la bassa autostima più l'entità mentale di livello 2 perché quello che prova niccolò da come l'ha descritto è una roba tutta contorta nel senso non avendo altre interferenze è come se l'entità queste due entità mentali si dovessero sobraccare al lavoro degli arrovellare e cercare di inventarsi le interferenze per abbassare le vibrazioni più possibile girando tutto su se stessa no quindi ti devi sentire in colpa perché non ti senti adeguato no tutto un meccanismo si è molto esatto muovi le braccia in questo spazio non prendi nessun problema in mano le muovi nel vuoto non c'è niente in sostanza esatto senso di colpa c'è ho inventato ma no è inventato c'è glielo gli mandano messaggio in testa che lui si deve sentire in colpa ma non c'è una roba per cui ha senso che lui si senta in colpa già non ha senso per nessuno ma qua sono dei raggio ci sono dei funghi a forma di uovo bianco che sono che quando finiscono il loro ciclo di vita diciamo si riempiono di spore nere e solitamente non si vedono nel bosco si si pestano e viene fuori una nuvoletta di spore nere no non so se l'hai mai pestato ecco questi sono i problemi di nicolò che a certo punto lei dovrebbe li guarda ma di fatto sono una membrana sottile che contiene delle spore dell'aria quindi dovrebbe schiacciare tutti questi bei funghi la bassa autostima il sesso di colpa l'attaccamento i dolci che abbiamo visto e farli svanire in una nuvola di fumo perché un'entità mentale 1 e 2 si fa uno sternuto se ne fa due e sono state alla fine se poi specialmente lui che magari non è una perla ma ha delle capacità abbastanza alte ok cause economica della stabilità se c'è e con stabilità economica difficile cause soteriche scusa diciamo che è l'unico aggancio che hanno un po per tenere l'idea della sua bassa di non essere in grado e del senso di colpa no quindi fanno dell'unico modo che hanno un po attraverso anche spesso vedo anche le dl quando agisce fa questa cosa per far sì che lui a livello economico sia sempre in difficoltà o perlomeno io vedo che non è neanche tanto in difficoltà ma è più quanto che gli creano questa credenza no come se che ne so per arrivare per vivere bene durante il mese sparo ho bisogno di 3.000 euro a lui ne ha 5.000 loro gli fanno credere che ce ne vogliono 6.000 ok per vivere poi c'è anche la possibilità di convivere con qualcuno magari con la fidanzata quindi ci sono anche delle soluzioni a vivere in una casa più piccola vabbè va bene comunque è anche lì una specie di fungo pieno di spore di fatti ok causa esoterica del contesto diciamo energetico del sogno in cui sogna di volare allora hanno approvato a fargli un'abduzione ma meno una poi anche l'altro sogno era una roba simile per ex fuori dalla casa ecco no lì non sono neanche riusciti ad iniziarla l'ho già visto prima è vero allora praticamente l'hanno preso ma lui si è accorto praticamente subito che gli stavano facendo questa cosa quindi quando era in alto lui la ps si è accorta si è fatta vedere e il fatto che lui si è sentito cadere giù di colpo è la velocità con cui c'è non c'è ne spazio né tempo quindi il fatto che lui si è trovato da in alto a giù nello stesso tempo mi è sembrato di precipitare ok mentre l'altro l'altro sogno si è accorto prima si è svegliato quando sono venuti a prenderlo e ha visto proprio il rettile quindi in tutto quanti abduction a quante abduction è stato sottoposto zero va bene resta il fatto che ci divaccato quindi che si fa l'unica soluzione tenere alte le frequenze in maniera costante sì solo che quando avrà il messaggio ai nano robot di abbassare le frequenze lui debba attivarsi se solo che è solo che fra un po c'è quello che vedo io che fra un po saranno i messaggi saranno molto frequenti e quindi uno dovrebbe stare tutto il giorno tenere le vibrazioni alte con quale sistema utile quali sistema utilizzano per tenere i messaggi tramite il ciclo di vedo tipo dei computer come potrebbero essere gli avatar che ne vediamo in eterico potrebbero esserci proprio del ma i nostri spazi con queste antenne non vengono a fare che i miei besti hanno iniziato a bruciarle non vengono bruciate queste simpatiche antenne che forniscono un servizio di cui non abbiamo nessun bisogno allora quello che vedo io è che tutto questo crollerà ok 15 divaccati sono a posto e se sono in grado di togliersi le altre sostanze rimangono con sto cosa che gira nel corpo però se non hanno interferenze dall'esterno non hanno anche di effetti ma persone consapevoli che sono in grado di spegnere tutto ciò che spellibile dal corpo non so se si dice così ce ne sono possibile belli espulso spellere espulso a togliersi e nicolò lo è sì secondo me quella parte lì assolutamente la può fare ma tutto il prontuario di sostanze integratori che permettono di eliminare grafene altre sostanze se non serve io vedo di no quindi siccolo 1 come nicolò dovrà sostenere un certo peso di interferenza tecnologica concerto che non crolla tutta la baracca e a quel punto che cosa inerte inerte che non ha più comunicazione con l'esterno gira e come se uno avesse dei metalli pesanti nel corpo che abbiamo tutti no immagino con la schifezza che ci mangiamo dalla mattina alla sera anche quello è un pochino consistente però diciamo il senso è quello chi è il creatore di questa tecnologia ma non sia umano esatto sono io vedo che l'avevo già visto visto ultimamente riguardando vedo la stessa cosa io vedo un rettile capo appena sopra e sopra un play a diano e un siriano 3 mega ad eternum di regalo a tutti un ringraziamento per questo bel regalino ok andiamo al cluster con nicolò anzi ci porta lui e si dalla con spellibili sensi con particolare attenzione al contratto relativo alla esperienza del cinema h vediamo quanti sono sono 820 800 diciamo di più di meno e come li vedi sono 900 contratti ti porta lui sì sì man mano che tu parlavi lui andava tipo no tirava fuori quello che tu chiedevi sono 900 e quello lì alle due diciamo è come se vedo arrivato fin qui l'esperienza ok del cinevac e adesso è come se sul foglio tra virgolette del contratto ci fosse un bivio ok dove a seconda della della situazione in cui si troverà nicolò su questa linea temporale potrà agire in due diverse maniere allora se quella dove dovrà bloccare gli impulsi esterni fa vedere che la prima azione che farà sarà quella di passare la maggior parte del suo tempo a ad alzare le vibrazioni per mantenere fuori queste queste cose che è potenzialmente se dovesse essere così per il resto della vita a un certo punto il fisico cede è troppo ok quindi un po prematuramente ma questo è proprio solo c'è non è quello che succederà è ok diciamo che è come se i fogli dei contratti si aggiornano di continuo ok con un nuovo pezzo dell'esperienza fatta certo quindi ad oggi queste sono le due possibilità e non è che ve che nel contratto diciamo nel contratto c'è scritto le varianti del della post di questa via presa no cioè non so se riesco a spiegarmi no sì ma allo sotto delle cose qual è la variante quindi allora ci sono le due possibilità o c'è quella dove rimarrà diciamo deep state questa è la vita è quello questa è la situazione di nicolò ok che esula da quello che io vedo in generale ok è come se come è lui con la sua consapevolezza questo c'è nel suo cluster ok quindi ci sono le due varianti le due possibilità quindi la possibilità dove rimarrà il deep state e quindi gli arriveranno gli impulsi dall'esterno ok quindi l'unica informazione che ha adesso è arrivano gli impulsi dall'esterno ok quindi con gli impulsi dall'esterno il suo fisico reggerà per tot anni e basta mentre se crolla deep state quando con il deep state certo noi abbiamo ma lui è come se questa informazione ancora non ce l'ha capito quindi nel suo cluster c'è scritto se e se c'è da 50 50 per noi sappiamo che è tipo 0,2 e 99,8 io direi addirittura 0 e 100 per cento però per lui adesso è ancora 50 50 quindi sì perché lui deve valutare le due possibilità anche sapendo che magari una è totalmente improbabile o quasi impossibile lui deve valutarla perché è la web anzi è uno e meno uno se non c'è stampo il risultato deve essere quello o uno o meno uno ok va bene via tutto ok ti ha portato lui nel cluster sì 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 fa lui tutto il lavoro bene male in fretta lentamente fatto bene velocemente ok sa creare una dettagli ha già creato e lo sta mettendo lo lascia lì nessuno lo può spostarsi primo perché suo secondo perché le alte frequenze che metterà per sempre non permettono l'avvicinarsi di chi chi che sia che voglia toglierlo che abbia l'intenzione di toglierlo chi si può avvicinare teoricamente spostarlo certo non ne comprende il valore non vuole spostarlo in più non lo può fare perché non è roba sua quindi non può interferire con un oggetto che emana alta frequenza sta andando alla volta lo può togliere la sua fiamma teoricamente impazzisce è come se può toglierlo visto che la fiamma a dare linee te rico e lo toglie è come se tutto dovesse essere tutte le parti dei loro due dovessero essere coerenti uniti esatto quindi non è proprio possibile neanche per definizione che una parte di lui come la fiamma prenda l'iniziativa di andare lì a togliere l'ad eterno che lui ha messo nel suo se lo fa e perché sa già che lui dice c'è che per lui è sì che lui vuole è perché comunque questo è il cluster di nicolò non della fiamma quindi tutte le esperienze di colore tre delle quali sono con la fiamma ma non sono le stesse della fiamma peraltro quindi 820 meno 3 817 sono con altre storie i contratti sono suoi tutti e soli solo suoi anche quelli delle tre vite passate ok alta sta prendendo un portale definitivo buttata dentro ne ha chiuso la d'eterno e la maggiore esistono ancora quelle quattro cose con le quattro interferenze che c'erano ok eterico subliminale e emozionale mentale tutti quattro i corpi più il quinto fisico una d'eterno ma ogni corpo c'è adesso che il guscio che prima era si fermava e c'era l'entità mentale adesso arriva fino in fondo quindi questo guscio è tutto intero come lo vedi ok lo vedo con un paio di occhiali in mano modicchiando la stanghetta e dice ok quindi tutto quello che prima vedevo che erano diciamo la la teoria che avevo in mente di seguire per sentire la mia ps che però non ero vi dicevo che non era giusta adesso so che è quella giusta e quindi so dove andare dice senti elena inventiamoci una cosa nuova abbiamo inventato la d'eterno ma che emette frequenza alta e lo metti nel posto in cui adesso ci inventiamo una nuova pillola la chiamiamo eterna frequenza quindi una pillola assunta la quale sorta di antidoto cinivac si attiva nel momento in cui c'è bisogno che si attivi per azionare un aumento automatico di frequenza anche quando magari uno è triste o nel panico perché sente che c'è qualcosa che non va e che hanno acceso il g5 eterna frequenza l'hai creata se come è fatta a tutto allora si vede più che altro il guscio fuori che è molto che di quel colore della vibrazione altissima ok si è dentro a coloro un po più tenue si vede proprio come se si vedesse dentro la vibrazione che si muove cilindretto così funziona si funziona cioè non mantiene nicolo ad alte frequenze in maniera esterna diciamo ma nel momento in cui nicolo dovesse averne bisogno si attiva in automatico se allora a un costo no 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 allora il nicolo funziona benissimo sto guardando come potrebbe essere con altre persone se sono meno consapevoli e con una vibrazione troppo bassa come se fosse rallentato l'effetto cioè va ma come se contrastasse la vibra c'è l'impulso che viene da fuori ma in parte no devi avere una certa consapevolezza cioè per dire se noi lo distribuiamo a tutti i cinivaccati non funziona per tutti è già per i pentiti e può essere anche voi per i serpevoli essi pesato perché come se vibrasse un po più alla stessa frequenza no come se gli altri invece come se la contrastassero è come se la ps non lo vuole non so come dire ok quindi per nicolò funziona io non ho capito la tua fidanzata se ci divaccata sì anche lei ok unbelievable unbelievable uno come te poi io veramente non ho parole perché non c'è il motivo eh ma perché io no non c'è nessun motivo io non comprendo questa cosa comunque la offriamo anche lei un eterna frequenza oggi grandi invenzioni una d'eterno quello però se lo può creare da sola un'eterna frequenza e anche la pillola vick vibrazione informazione e consapevolezza che fosse la più importante di tutti perché di tutte perché con quella uno diventa creatore vibrazione alta informazione l'informazione di queste sessioni è ora un volato anche se nel video cannibal sono passati 12 spot in tutto il video mi hanno detto in modo tale da dissuadere la visione per chiunque voi resistete c'è un tasto nel computer che toglie l'audio e togliete l'audio quando c'è lo spot e controllate i messaggi del telefono resistete nel senso io non ci posso fare niente questo è il sistema non si devono sapere certe cose e se volete andare a vedervi canale 5 perché vi siete stufati di questi spot guardatevi di sport di canale 5 che è piena e infarcita come una torta di compleanno ok come allora entità mentali 12 ci sono ancora non c'erano impianti quindi non ci sono più nuova vibrazione adesso è a 100 mila cento miliardi cento miliardi nuova consapevolezza 257 psp 60 40 vite precedenti 302 però bisogna vedere uno che una volta arriva a uno vite volete una eliminata tutte cervello 10,4 ok lo vedi ancora bambina di dieci anni quello era quella vita la parallela sull'altra linea temporale che però è stata tolta la cinema c'era la fidanzata e la madre no ma poi c'era fratello e papà ok come ti vedi allora la mamma e la fidanzata molto contente vedo adesso non so ma lì le vedo molto affiatate molto si abbracciano per la felicità di quello che hanno visto di quello che che è veramente la realtà come se avessero un sospiro di sollievo no possiamo creare tutto noi che bello e papà e fratello che loro li vedo entusiasti ma è come se avessero bisogno di più tempo per capire il funzionamento le formazioni le hanno prese devono mettere insieme i pezzi però anche loro molto contenti esattamente come la per come come nella realtà secondo i segnali che mi insegni che mi fa vedere niccolò cioè proprio esattamente così ok vabbè ovviamente nella realtà il canale è lì per cui chi prima chi dopo possono vedersi le stesse magari tu puoi consigliare quelle da vedere per prima e quelle da vedere per seconde puoi aiutarli non so insomma le perché una cosa invitarli al cinema una cosa poi a fare un percorso incarnati nella matrix combattendo con tutti i costrutti mentali che abbiamo quindi chi sono questi due sono matti soprattutto quella che sotto matta e qua nessuno stenta a crederci ovviamente mi spiace va bene esatto come bambini bravo niccolò messaggio messaggio finale della psp e di niccolò a niccolò che qui davanti alla gamma di skype continua a fare quello che stai facendo sai benissimo come si fa entrare in contatto con me lo fai spesso e bene e andremo lontani rimane sempre in quelle vibrazioni li e continua a farlo questo ci sarà da enorme aiuto continuo così perfetto la fidanzata che fa consideravo che la fiamma la vedo adesso lì la vedo che come se lo abbraccio lo vedo che lo abbraccio di tutta entusiasta e mentre fa questo vedo proprio che diventano una cosa unica e assorbi c'è da spiegare è come ti ricordi in matrix quando mio era sbagliato all'inizio gli passavano tutte le informazioni in un istante delle cose tipo la lotta così ecco così vedono quindi loro abbracciati diventa una roba unica e alle arrivano tutte le informazioni della parte di esperienza diciamo di questa cosa subito della sessione e quindi vai alla fine di questo passaggio lei vibra a 100 miliardi come lui in questo momento sì e quando si stacca anche no quando si stacca allora per un momento sì però dipende tutto da come vive ognuno no quindi magari le vibrazioni non sono sempre uguali però basta proprio che che loro magari si guardino o si mandano un pensiero o si sfiorino che vibrano nella stessa che chi è chi è più alto fa vivare l'altro la stessa altezza va bene abbiamo finito quindi pronto a tornare